Sfida Scudetto, se intendiamo sfida Scudetto perché giocano due squadre che fino alla fine si contenderanno lo Scudetto insieme al Napoli, alla Roma e alla Lazio, perché al momento potenzialmente ci sono cinque squadre in quattro punti, sì, che decida lo Scudetto, no, ripeto, da come stanno andando le cose, almeno che una squadra non perda sette partiti di seguito, fino all'ultima giornata quest'anno il campionato sarà in bilico. Anche perché per noi sicuramente, perché abbiamo tre scontri retti nelle ultime cinque partite, quindi per noi il campionato rimarrà aperto fino alla fine. Domani giochiamo, per noi è un grandissimo stimolo perché ci confrontiamo con la prima del campionato, come è stato domenica scorsa, e contro un Inter che ha dei numeri pazzeschi perché è la migliore difesa del campionato, non prende gol su palle inattive, e ha uno spirito importante, credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro e i numeri dicono questo. E poi sempre Juventus-Inter, Derby d'Italia, quindi è una sfida bellissima, una serata bellissima da giocare, bisogna essere bravi e un pochino fortunati per portare a casa il risultato, però bisogna fare una bella prestazione. Ma devo ancora valutare e decidere la formazione perché qualcuno ha giocato molte partite e qualcuno domani riposerà, sarà a disposizione. Abbiamo bisogno anche un po' di energie fresche, quindi vediamo un attimino, vedrò l'allenamento di oggi e poi dopo in base a quello deciderò. L'unico dubbio che ho è che Buffon difficilmente sarà della partita, lo valuteremo oggi ma è molto difficile. Di bala, devo decidere se giocare con i due, giocare con i tre, giocare con i quattro davanti, non ho ancora deciso, c'è un po' di confusione in testa, speriamo oggi con questo sole me la schiarisca un po'. I giocatori passano nei momenti migliori, nei momenti diciamo di meno condizione, sicuramente in questo periodo è più difficile mantenere la condizione soprattutto per quelli che vanno in nazionale. Però Paolo è stato importante all'inizio, è importante ora, è un giocatore di qualità straordinarie, è uno giocatore più tecnici che abbiamo, non è preoccupante il periodo diciamo meno bello che sta passando. L'importante è che il focus sia quello di lavorare, di ritrovare la condizione ottimale per riprendere e rifare le cose che sa fare. Spalletti sta dimostrando quest'anno e sta confermando quest'anno quello che ha fatto nell'arco della sua carriera. Allo stesso a Roma ha fatto risultati importanti, poi ha trovato una Juve che ha fatto meglio e poi Spalletti è un allenatore che sfrutta al meglio le caratteristiche che ha a disposizione i giocatori e credo che questa sia la qualità migliore di un allenatore, quella di non fossilizzarsi su un sistema di gioco, su un modulo, ma se hai dei giocatori che possano giocare con un sistema di gioco o hanno determinate caratteristiche è inutile farle giocare in un altro modo. Poi è molto bravo la lettura, Spalletti direi che è uno dei migliori e credo che sia un valore importante per l'Inter. Manzuki ci ha passato un periodo in cui tra la Nazionale che si era fermato, tra dopo il Crotone, se non mi sbaglio quando si era avuto un leggero fastidio, ha perso dei giorni di allenamento e quando perde i giorni di allenamento e perde la condizione e sta fuori. Ci sono altri che giocano e stanno fuori. Ora ha ripreso la condizione, sta riprendendo la condizione, anche lui fa parte di quelli che deve riprendere la condizione, è ottimale, perché per alzare l'intensità tecnica e fisica delle partite.